direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi sabato 28 luglio il jackpot ha raggiunto la cifra di 19 milioni 589 mila 926 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 90 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 10 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 68 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 19 pronti per il quarto numero? il quarto numero estratto è il numero 47 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 75 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 67 dopo i sei numeri che assegna il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly estratto di questa sera è il numero 40 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 10, 68, 19, 47, 75, 67 numero jolly 40 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite su prenalotto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar estratto di questa sera è il numero 71 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 90 in ordine crescente 10, 19, 47, 67, 68, 75 numero jolly 40, numero superstar 71 l'estrazione di oggi sabato 28 luglio termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 19 milioni 500 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 90 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del supernalotto assegna 450.180 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 19 milioni 500 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di supernalotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 20 milioni 500 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 9 e vincono 20.510 euro ciascuno i 4 sono 704 e vincono 273 euro ciascuno i 3 sono 26.184 e vincono 21 euro ciascuno i 2 sono 387.197 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 13.388 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 3 e vincono 27.305 euro ciascuno i 3 stella sono 112 e vincono 2177 euro ciascuno 100 euro vanno ai 1947 2 stella 10 euro agli 11.476 1 stella 5 euro ai 22.548 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi Super Enalotto vi dà appuntamento a martedì 31 luglio giocheremo per un jackpot di 20.500.000 euro arrivederci